cari amici bentornati sul mio canale grazie per il supporto vi chiedo per coloro che non avessero già fatto di iscrivervi di mettere cliccare anche sulla campanellina per avere immediatamente notizie dei nuovi video che sto caricando e voglio tornare a parlare di libri ci sono alcuni libri che hanno fatto la storia della pesca indiscutibile e sicuramente uno di questi a pesca i campioni di mario albertarelli introvabile purtroppo io non l'ho lessi ma non era un mio libro lo cerco non credo di trovarlo tra questi libri tre libri che hanno fatto sicuramente la storia della pesca ce n'è uno di un caro amico che è stato un maestro di pesca come compagno di pesca che sento ancora tuttora sandro meloni il libro è ser casting tecniche di pesca dalla spiaggia è un libro innovativo è un libro uscito tanti anni fa uscito purtroppo nel momento sbagliato un libro molto bello come nello stile di meloni che un grande autore una persona di un'intelligenza rara un visionario un nel senso bello del termine è chiaramente una persona che ha saputo trasformare una tecnica di pesca praticata già da molti e da molti anni da illo tempore direi trasformare in un qualche cosa di standardizzato preciso mettere insieme una serie di nozioni che ancora oggi sono parte integrante del nostro bagaglio chi purtroppo conosco qualcuno che lo fa sminuisce sandro meloni non ha capito niente di pesca semplicemente un invidioso perché sandro non capisaldo caposaldo della nostra tecnica di pesca l'emozione che personalmente provai tornare 86 circa quando una testata giornalistica esso credo che fosse pesca in mare e se ne uscì con uno speciale dedicato a ser casting bene l'emozione che provai nel vedere questi assorti di marziani vestiti in tute da sci con i mon but con delle catture esagerate io all'epoca abitavo vicino a manfredonia nella zona di foggio quindi avevo il mare a portata di mano non un mare particolarmente da ser casti ma comunque una spiaggia ebbene l'emozione fu enorme nel vedere questi personaggi che poi ho conosciuto uno per uno li ho conosciuti tutti siamo diventati amici alcuni sono diventati miei maestri alcuni compagni di pesca di molti ho perso il contatto di sandro meloni con sandro meloni il contatto è rimasto contatto magari basato non più sulla pesca ma sulla comune passione del volo in quanto pilota professionista lui come pilota appassionato ebbene quella quell'emozione fu gigantesca perché mi fece vedere un mondo che non conoscevo e mai mai avrei immaginato che da lì a poco da neo appassionato di ser casting mi sarei ritrovato a parlare direttamente con sandro meloni tutto fu molto casuale perché fui mandato dal mio reparto in sardegna a fare un corso per diventare istruttore di tiro e dovete rimanere praticamente a cagliari più di quattro mesi chiaramente mi ero portato all'attrezzatura da pesca e quindi attrezzatura pesca significa negozio di articoli di pesca nel particolare a piazza garibaldi a cagliari il negozio benzinaio di giampaolo carta che cominciai a tempestare di domande più che altro per cercare di capire come si pescava con un'attrezzatura che era veramente raffazzonata la mia mi ricordo una canna telescopica un bulino e laccio e quando scoprì che facevo il pilota di professione mi disse guarda conosco un grande autore un grande pescatore che è un grande appassionato e si viene a sapere che tu sei un pilota ti vuole conoscere di sicuro anzi fammelo chiamare lo chiama a casa sandro risponde e da lì a un'ora mi ritrovo a quarto santena in quella che era la casa di sandro meroni che fondamentalmente io non conoscevo si avevo sentito nominare naturalmente ma mi stavo affacciando al mondo del surf ma non in modo così approfondito da sapere chi fosse effettivamente questo sandro meroni e scopro un personaggio carismatico personaggio particolare un personaggio con una carica motiva e personale molto molto forte rara unica un personaggio affascinante personaggio che mi tempeste domande di aeroplani un personaggio che poi decide a un certo momento ora parliamo di pesca e comincia a scrutarmi come pescatori ho grande esperienza già maturata in tanti settori di pesca esperienze pesca alla spiaggia veramente bassa e da lì a poco comincia una lunga avventura che mi ha portato poi a diventare membro del quad che è il gruppo di sandro meloni formato da sandro stesso da marco falchi da walter de jana da sergio simonelli e e poi dal sottoscritto che viene inserito quasi di forza da sandro a quel punto comincio a girovagare tra foggia e la sardegna e vado talmente tante volte in sardegna da averne fatto quasi una seconda casa e ricordo i milioni di chilometri fatti lungo le due statali 125 e 131 per andare a raggiungere sandro oppure con sandro e marco in macchina oppure per pescare con giampaolo carta il mio maestro pescare quelli dell'ippocampus grandi pescatori dell'ippocampus con due modi di approcci diversi radicalmente dal surf casting del surf casting della pesca alla spiaggia sandro meloni onde venti in faccia a ricercare appunto le mareggiate gli amici dell'ippocampus canne completamente diverse attrezzi a bobina fissa mare possibilmente calmo anche vento alle spalle spiagge non tanto da ser cast in quanto da pesca a fondo ma andava bene uguale come platamona eccetera eccetera tante catture tantissimi pesci devo ammettere che in quegli anni la sardegna regalava catture notturne a profusione è un caro ricordo quello qualche anno dopo durante questa esperienza esce questo libro punto se il casting di sandro medoni che tra le altre cose mi ritrae per la prima volta con delle orate presi abadesi e e da lì è storia perché dico che questo libro è uscito troppo tardi c'è troppo tardi perché purtroppo anche per causa mia ma non solo per causa mia qualche mese dopo l'uscita di questo libro in inghilterra io rientro da un viaggio lunghissimo durato tre mesi all'inghilterra da quale rientro appunto con una infinità di nozioni che offrono a sandro medoni che sono sulle canne ripartizioni che ne conoscevamo attraverso il giorno del team che il mulele bobina rotanti da quindici libri sul lancio pendolare l'uso dei bait clip le canne più corti più sottili più potenti l'uso degli spike l'uso di scioccheri di un certo modo tutta una serie di cose che non sono contenute in questo libro perché questo libro è il surf casting come lo si doveva vivere fino agli anni fine anni ottanta diciamo così c'è molto uso di rotante perché rotante il mulello simbolo di questo modo di intendere il surf casting ma ma non il rotante da 15 libri che è venuto successivamente qui si parla di penne da 20 libri di penne da 30 libri ma d'altra parte questa pesca era una pesca potente fatta con piombi grossi e quasi inaccettabile parlare di piombi da 100 grammi si parlava di 150 grammi si parlava di 175 grammi si parlava di cono meloni si parlava di fili che oggi sono improponibili nella pesca attuale perché si parla di andare a pescare le mormone con lo 0 28 lo 0 30 se non lo 0 35 di avere in bobina sempre almeno lo 0 35 se non addirittura lo 0 40 e ma non è tanto importante questo perché all'epoca i pesci c'erano all'epoca le situazioni ci permettevano permettevano a tutti di pescare e approcciare in questo modo che un modo che ha grande valenza attuale magari riducendo diametri ma quello che è importante di questo libro quello che è fondamentale che innovativo è tutta la standardizzazione dei travi da qui nasce ad esempio l'ongarme viene definito nel dettaglio come deve essere costruito come deve essere fatto quando deve essere usato lo short le varie denominazioni che sandro ha dato perché sono ad esempio short è una denominazione tipica di sandro meloni come quando deve essere fatto quando lo short alto quando lo short basso lo zatterino in modo flottante di pescare come si costruiscono degli zatterini ultraleggeri per la pesca primaverile perché all'epoca non si disponeva di tutto ciò di cui disponiamo noi adesso e lo studio delle onde lo studio delle maree lo studio del moto ondoso in genere che ci permette di capire quelli che sono i settori da cui scaturiscono delle prede che sono riportate questo libro sono veramente strepitose e sto parlando delle meravigliose umbrine qui c'era sto guardando in questo istante un'ombrina gigantesca di walter de jana ma come la copertina che parla di una spigola bellissima di marco falchi così come tanti concetti legati al lancio a come si deve lanciare come va interpretato il lancio c'è un appunto sul sull'agonismo ma è veramente piccolo si parla del wonder self il modo wonder self di andare a pescare con una canna un picchietto e girovagare per la spiaggia alla ricerca di catture alla ricerca di settori migliori tecniche di pesca che io non so quanti oggi pratichino che fino a qualche anno fa veniva praticato io stesso la praticavo leggerissimo a cercare settori da esplorare per mezz'ora 40 minuti per poi andare a cercare un nuovo settore di pesca pesca bellissima affascinante di movimento e questo questo modo questo questa idea è tipica di sandro meloni per questo un innovativo un innovativo in tutti i sensi perché dopo sandro meloni non è stato inventato niente di nuovo sono stati semplicemente diminuiti diametri messi a disposizione degli appassionati attrezzi accessori più piccoli più leggeri con molti meno pesci ora si parla di andare a pescare con 0 16 di finale 0 18 in bobina addirittura ho pescato con gli spagnoli del perdigal che in bobina anche se sono agonisti ne hanno una necessità particolare pescano con lo 0 10 e quindi cose inconcepibili da questo punto di vista per i surf caster tradizionale e l'abbigliamento stesso quanto è cambiato non si vede più gente che va in giro con il moon boot con le tute da sci adesso abbiamo quasi tutti quanti degli abbigliamenti che spesso sono addirittura brandizzate le grandi aziende producono un abbigliamento dedicato al surf caster dedicato al pescatore che deve affrontare delle interperie il bello di questo libro è che in ogni pagina si respira vento in faccia onde salsedine sofferenza anche quanti inverni abbiamo passato dormendo dormendo sulla spiaggia io ricordo che pescavo con due blue jeans uno sopra l'altro una giacca a vento da sci enorme un cappello di lana i guanti che per innescare li toglievo per poi averli bagnati comunque tutta la notte i piedi spessi umidi perché i moon boot avevano tenevano caldo fino a quando non si bagnavano e quando quando il sonno era ormai incontrollabile mi accasciavo di spalle in fondo alla spiaggia mi mettevo di spalle al vento e mi addormentavo sdraiato sulla sabbia e a pochi metri da me c'era sandro meloni con la sua sedia la sua sigaretta sempre in bocca le sue canne in pesca e un grosso telo di plastica che lo copriva e la mattina ci svegliavamo non freschi riposati perché avevamo dormito in una tenda ma semi distrutti ma felici per aver vissuto un'emozione un'esperienza pazzesca ricordo sandro si svegliava toglieva questo telo di plastica e la nottata era andata bene era andata male non importa quello che doveva essere importante era che avevamo vissuto un'altra nottata giornata di surf casting quello puro distante distante dalla pesca che la maggior parte di noi pratica adesso o meno difficile immaginare un approccio del genere ebbene tutto questo in questo libro che è probabilmente introvabile gli appassionati lo possono forse andare a trovare da qualche parte sarebbe bello poterlo ristampare cosa assolutamente impossibile a tal proposito mi sta venendo comunque mente una cosa voglio sentire la vostra opinione vorrei fare sul mio canale youtube su questo canale youtube una diretta proprio con sandro meloni in modo per inter di interagire con sandro e leggere eventualmente se ci fossero domandi dubbi perplessità e curiosità da parte di quella enorme fetta di appassionati che grazie al libro di sandro meloni a tutti i suoi scritti su pescare mare e sono diventati appunto appassionati di surf quindi un libro storico un libro che merita assolutamente di essere annoverato tra i grandi grandi libri che hanno fatto grande la pesca italiana pochissimi questo è uno di quelli e per voi amici grazie grazie noi vi prego di iscrivervi a questo canale manca poco per arrivare a quota 15 mila mancano 6 da quello che ho visto 6 persone e continuiamo così chiaro parla di libri significa entrare in una nicchia molto ristretta ma è una nicchia di persone che amano i libri perché vogliono sapere di pesca non si accontentano dei video ciao e ci vediamo al prossimo contamento